Alla fine degli anni 60 rappresentarono la scapigliatura del campionato, quella capace di rompere l'egemonia degli squadroni del nord. La Fiorentina campione d'Italia nel 69 e nel Cagliari campione d'Italia nel 70. Oggi cercano la loro dimensione in questo campionato 2010-2011. Lungo in area mutu, insiste Donatelli, il cambio di gioco verso Vargas. Vargas a Gazzi in due tempi, si è liberato Vargas. D'Agostino fa viaggiare il pallone verso Mutu, Mutu, Mutu! La respinta di Agazzi, è riuscito a calciare Adrian Mutu. Ancora Nenè, prova col destro, Nenè! Dalla distanza la parata di Boruc. D'Agostino dentro, è il gol del vantaggio della Fiorentina! Mutu ha portato in vantaggio la Fiorentina! Ce l'ha fatta Mutu a interrompere il digiuno al settimo minuto del secondo tempo! Kossu, parte Conti! La parata sicura di Boruc. Ancora Pasqual. Vargas. Cross di Vargas. Lihaic! Grande risposta di Agazzi in calcio d'angolo. La Fiorentina ha sfiorato il raddoppio con Lihaic. Conti. Lazzari. Prova in sinistro, Lazzari! Diagonale pericoloso, velenoso di Lazzari e palla sul fondo. Ecco lo spiovente. Agazzi, proprio su Zanetti. Donadel! 2-0! Splendido gol di Donadel! Non è gol. Annullato, eh? Per un gioco. C'è Zanetti che... C'è un giocatore della Fiorentina che si abbasta. Mi sembra Zanetti, eh? Va a cercare il 2-0. Vargas, Vargas, Vargas! La respinta di Agazzi. E poi può ripartire il Cagliari con Biondini.